Harry e Meghan si sono trasferiti nella villa dei loro sogni a Montecito poco dopo aver lasciato la famiglia reale e essersi trasferiti negli Stati Uniti nel 2020. E, una delle zone più esclusive della California e la residenza è appartenuta anche a Neil Gibson. Sorge su un terreno di circa 5.000 metri quadrati e comprende 9 camere da letto e 16 bagni, ma mantenerla, come è facile immaginare, costa davvero molto. La costosa manutenzione della loro lussuosa casa a Montecito, in California è stata analizzata da un esperto immobiliare che ha descritto la proprietà come simile a un piccolo boutique hotel. Oltre a 9 camere e 16 bagni, la villa ha una piscina e un campo da tennis, ampi giardini e un pollaio privato che la coppia ha chiamato Archie S. Chicken. Dispone inoltre di un garage per 5 auto, una pensione, una spa, una cantina, una palestra, una biblioteca e una casa da tè, oltre ad altri servizi di lusso. Ora un esperto immobiliare ha parlato dei costi di gestione dell'enorme casa da 12 milioni di sterline, sostenendo che deve costare migliaia di sterline ogni anno solo per prendersene cura. Il personale. Eric Bramlett, della società immobiliare Bramlett Residential, ha dichiarato alla rivista Fabulous gestire una villa da 12 milioni di sterline, 14 milioni di dollari, come quella di Harry e Meghan a Montecito richiede molto lavoro. L'esperto ha affermato che gestire una casa di lusso come questa richiederebbe molti membri del personale, il che potrebbe contribuire ad elevati costi operativi. Ha aggiunto che una villa del genere richiederebbe circa 10 a 15 dipendenti a tempo pieno come governanti, uno chef privato e una qualche forma di sicurezza. Bramlett ha spiegato, il solo pagamento degli stipendi del personale, dei servizi pubblici, del paesaggio, della manutenzione, della sicurezza e altro potrebbe facilmente costare centinaia di migliaia di dollari all'anno.